Buonasera a tutti e a tutti benvenuti. Qui siamo su Tintoli Talk, Twitch di Infodata, il sole 24 ore. È il primo aprile, sono le 18.01 minuti e questa sera sono qui con due colleghi di Infodata che sono Luca Tremolada sotto e Riccardo Saporiti sopra e con un ospite che è Daniela Ovaria, giornalista scientifica, ancora la vedete in alto, e affronteremo un argomento che è abbastanza caldo negli ultimi mesi, ma in realtà è caldo sempre, ciclicamente se ne parla e vorremmo un attimino sfatare anche qualche mito e capire meglio di che cosa si tratta. Si parla di conflitti di interesse in sanità. Quindi abbiamo pensato di invitare, niente meno, e quindi abbiamo pensato di invitare Daniela perché come giornalista scientifica e anche esperta di bioetica, insomma nella sua esperienza professionale si occupa anche, vero Daniela, spesso di questi temi, insomma quindi sicuramente ci aiuterà a capire meglio di che cosa si tratta. Quindi ciao Daniela e grazie intanto di averla. No, grazie a voi per l'invito. Allora io direi, che dite, di cominciare proprio partendo dalla base, cioè cosa sono i conflitti di interesse in ambito sanitario? Vediamo di dipingere una cosa. C'è anche cinque nomi di persone che vogliamo subito in galera, ti immagini cosa sono i nomi e poi cinque persone che devono subito andare in galera, così per partire un po' agitati. Ti ho detto comando io perché ho paura che poi dopo qui si mettermi subito a mio agio. Io poi sono una giornalista scientifica, non una giornalista di cronaca, quindi diciamo che quando devo giocare su questo piano mi mettete subito in difficoltà. Ma poi devi sapere Daniela che quando abbiamo buttato fuori questo argomento qui, io ho ricevuto cinque telefonate, no? Dei cinque che devono andare in galera? No, di persone che hanno detto, ah ma come la prendete? Ma di che cosa parlate? No, vabbè, ma poi io vi vedo stasera magari, ma con chi è che ce l'avete? Non mi era mai capitato, no? Nel senso che il... Perché prima dovevamo fare il conflitto nella comunità scientifica, no? Poi giustamente Cristina ha detto, no ma guarda, proviamo a tagliarlo meglio e ragioniamo sul conflitto nel mondo della sanità. Ed effettivamente il titolo ha pagato dal mio punto di vista, perché di solito, insomma, se noi facevamo il conflitto di interesse nella politica, ma sai, era niente, capito? Invece sulla medicina c'è qualcosa di strano. Prego. Beh, in realtà, appunto, ci sono molte analogie tra il conflitto di interessi nella scienza in generale e il conflitto di interessi nella sanità. È difficile, secondo me, io, come diceva Cristina, tra le tante cose che faccio nella vita insegno anche etica della ricerca scientifica all'Università di Pavia. Quindi quando devo dare una definizione di conflitto di interessi, detto sinceramente, non la divido per comparti, perché il conflitto di interessi è tale per tutti, sempre. E si è tentato in molti modi di circoscrivere il conflitto di interessi, categorizzarlo, decidere che cosa è un conflitto di interessi. E a dire la verità, non è che ci sia una definizione univoca. È sicuramente il conflitto di interessi aver ricevuto dei soldi in passato da qualcuno con cui poi si deve lavorare. Quindi la prima, la cosa più banale è quella che se in sanità si deve, che ne so io, comprare materiali o farmaci da qualcuno per cui prima lavoravi a vario titolo, anche solo come consulente, come è normale per uno scienziato, questo è un conflitto di interessi. Un altro conflitto di interessi però può anche essere di tipo, come dire, di contiguità familiare o a volte anche di scuole di pensiero, cioè mettere nelle proprie posizioni, in determinate posizioni persone con cui si hanno delle relazioni di valore. Quindi in realtà il conflitto di interessi, c'è un numero della rivista JAMA, Journal of American Medical Association, che è una delle riviste più importanti di medicina al mondo. Nel 2018 ha fatto un numero monografico con ben 21 articoli, tutti sul conflitto di interesse in sanità e medicina, dando diverse casi di conflitto di interesse, cercando di sviscerare quanto comuni fossero. E di fatto la definizione che dà è ogni volta che c'è in gioco qualcosa di valore, che sia sul piano economico, ma anche sul piano delle relazioni personali, politiche, ideologiche, che confligge con quello che tu devi fare, tu sei in una posizione di conflitto di interessi. Il che, attenzione, poi magari ne parliamo, non vuol dire che tu non puoi ricoprire quella posizione, ma vuol dire che in qualche modo tu e tutti quelli che stanno intorno a te devono gestirlo questo conflitto di interessi, devono fare in modo che non intralci il tuo operato. Certo, infatti hai detto la parola chiave, no? Io ricordo un libro che mi ha molto aperto la mente su questo argomento, qualche anno fa un libro di Luca De Fiore, Nerina Di Rindin, forse lo ricorderai, e un'altra autrice che ora, non ricordo, mi è venuto in mente in questo momento, quindi scuso, del Mulino, se non ricordo male, dove appunto si spiega bene perché il conflitto non è che devi, non lo puoi spesso evitare, perché poi siamo, soprattutto se si fa un certo tipo di lavoro, abbiamo relazioni di valore con un sacco di persone diverse negli anni, quindi è veramente difficile evitare una cosa, il punto è gestirlo, cioè la grande sfida, no? Se ricordo bene. Ecco, tu che cosa pensi, insomma? Cioè, ci puoi dare qualche indicazione in questo senso? Beh, sì, è importante questa distinzione perché conflitto di interessi, anche per la nostra storia politica recente, no? Gli anni del governo Berlusconi hanno portato il termine conflitto di interessi alla ribalta perché… È lì che lo abbiamo conosciuto, è lì che abbiamo cominciato a parlare. Sì, che è diventato un termine di uso comune e ha preso una connotazione intrensicamente negativa, cioè, come dire, il conflitto di interessi vuol dire che tu sei, se ne hai uno, sei disonesto. Invece la verità è che tutti noi abbiamo conflitti di interessi. Il problema è che regole ci diamo per fare in modo che queste cose non intralcino, come dicevo, il nostro operato. Le regole in sanità… Allora, nella scienza in generale, ma anche nell'ambito del lavoro si fa lo stesso discorso, la regola base è la trasparenza. Se io ho un conflitto di interessi di qualsiasi genere, lo devo esplicitare perché chi fruisce del mio lavoro o chi valuta il mio operato deve sapere che quella cosa lì, per me, potrebbe essere un intralcio. Quindi, se ha un dubbio sulle mie decisioni, deve poter bussare alla mia porta e dirmi, attenzione, non è che hai fatto questa cosa, ah, perché hai ricevuto dei soldi anni fa da quelle… non so, da quell'azienda, oppure perché quella persona lì è tua amica, è tuo fidanzato, oppure perché appartieni a quella corrente politica che pensa in quel modo lì. Quindi, il conflitto di interessi deve essere trasparente ed esplicito. Tant'è che nella maggior parte dei paesi, quando tu occupi una posizione pubblica, si chiede quella che si chiama public disclosure, cioè si deve pubblicare da qualche parte tutti i possibili conflitti di interessi. In medicina, in particolare, dove diciamo il conflitto di interessi più comune è quello nell'ambito della ricerca farmaceutica per la maggior parte dei medici, per esempio se parliamo di sanità, ma anche di istituzioni tipo gli ospedali, perché per esempio quando si fanno sperimentazioni cliniche, per poter fare la sperimentazione in un determinato ospedale, le case farmaceutiche pagano i costi della sperimentazione clinica e spesso anche una parte dei costi del personale dedicato e questo ovviamente è un modo con cui i reparti mantengono determinate figure, ma mantengono anche delle competenze in ricerca farmacologica, senza quei soldi lì noi non faremmo ricerca farmacologica. Allora, una delle cose che mi sento dire comunemente è, ah beh, non dovremmo farlo così non c'è il conflitto di interessi. Bene, se noi facessimo così e l'abbiamo fatto per un po' di anni, cosa succede? Che le ricerche per esempio sui nuovi farmaci vengono fatte in altri posti e noi perdiamo delle competenze scientifiche, per esempio quelle di identificare velocemente che c'è un problema su un farmaco, perché le persone competenti non sono più, nessuno nel nostro paese fa più quel tipo di ricerca, perché quel tipo di ricerca si fa con i soldi delle aziende. Ora, questo per dire, il conflitto di interessi esiste e si gestisce principalmente con la trasparenza, si gestisce anche con delle norme di incompatibilità a volte, ci sono davvero dei ruoli che non si possono ricoprire se si ha, come dire, fatto un certo tipo di lavoro. Pare brutto parlare di morti, però il caso più famoso che mi viene in mente è quello di un oncologo bravissimo, un ricercatore famosissimo, José Baselga, che è purtroppo deceduto pochi giorni fa, persona assolutamente importante nell'ambito della ricerca oncologica clinica, che però aveva preso tantissimi soldi per conto della sua istituzione, anche che era il Memorial Zone Catering, un importante ospedale oncologico americano e non era stato del tutto trasparente nella gestione di questi soldi, per cui è nato uno scandalo negli Stati Uniti che l'ha portato non solo a dover lasciare le sperimentazioni che faceva, ma anche la sua posizione in quell'ospedale e poi è diventato il direttore della ricerca scientifica oncologica dell'azienda che lo aveva pagato fino a quel momento, ma perché è uno bravo e davvero fa della buona ricerca, solo che ovviamente per lui era anche una fonte di guadagno. Allora il problema non era il fatto che lui avesse preso questi soldi, il problema era che non avesse dichiarato, come era obbligatorio nella posizione che lui ricopriva presso quell'ospedale, non avesse dichiarato esplicitamente la totalità dei soldi che gli era stata data. Allora sì, allora sì, allora questo è un... C'è un eco, aspetta, adesso mi sentite senza eco? Perfetto, questo è un ambiente di data giornalismo, ok? Io ricordo la prima inchiesta di ProPublica, non so se ve la ricordate, che prese un premio pubblico, esatto, cioè che cosa hanno fatto? Hanno incrociato, perché negli Stati Uniti si può fare, le spese, anzi le prescrizioni dei medici, dei farmaci che i medici di base davano ai propri pazienti con i viaggi e i convegni a cui erano invitati, no? Noi sappiamo che il convegno è una parte formativa importante di ciascun medico, sappiamo che in passato, ecco, di solito questi convegni venivano fatti, svolti in luoghi mirabolanti, cioè alle Aways, soprattutto negli Stati Uniti, in posti bellissimi e che insomma lì c'era una sorta non corruzione, attenzione, però insomma il sospetto che è quello che va un po' affrontato e anche la puntata, insomma, questa è una puntata dove affronteremo e cerchiamo di destrutturare il sospetto era quello. I medici più sono invitati da una certa casa farmaceutica ai convegni, più prescriveranno farmaci di quella casa farmaceutica. Ecco, questa inchiesta di Propablica, che ricordiamo essere una fondazione, per cui fu anche un momento importante per il giornalismo, perché non era il classico giornalone, tra virgolette, ma era una fondazione, dimostrò a livello, diciamo, matematico che insomma, sì, contavano questo fattore. Ricordo anche un post mitico di Nino Cartabellotta di un paio di anni fa, in cui Nino, insomma, con Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, scusate, e come diceva, insomma, in Italia, ma parlo di tre o quattro anni fa, per cui non di decenni fa, i convegni dei medici sono assolutamente inutili perché sono momenti di svago dove la qualità degli interventi è mediocre, insomma, per cui insomma sono strumenti poco utili. Post che chiaramente sollevò moltissime critiche. Allora, partiamo dal basso, partiamo dal convegno formativo. Io voglio sapere cosa ne pensi tu, cioè se ci sono delle cose, ma peraltro vorrei chiederlo a tutti, nel senso che mi piacerebbe l'opinione di tutti, e se ci sono degli accorgimenti, no, che lo Stato potrebbe prendere per rendere più trasparente quello che è un sospetto spiacevole, no, perché se io devo pensare che a mio figlio presentano dei farmaci perché questo è invitato tanto a un convegno, a posto adesso non ci si muove più nessuno, per cui non c'è questo problema, insomma mi arrabbio come cittadino. Beh, in Italia abbiamo dei limiti di legge agli inviti ai convegni per i medici, proprio che nascono un bel po' indietro dal primo scandalo farmaceutico, quello famoso del Puff di Poggiolini, se ricordate, stiamo parlando credo dei primi anni 90, non vorrei sbagliare, o addirittura fino ad 80. Lì è emersa questa cosa della, come dire, dei regali ai medici e ne è derivata una normativa abbastanza stringente su che cosa può essere e non può essere offerta ai medici. È rimasta fuori, è rimasta fuori esattamente questo ambito della formazione, per cui per esempio è possibile per le aziende sponsorizzare corsi di formazione per i medici, cosa necessaria perché i medici hanno bisogno di formazione esattamente come noi giornalisti, cosa estremamente dibattuta perché per fare formazione è necessario, come dire, ci vogliono dei soldi perché i relatori vanno pagati, i corsi devono essere fatti come si deve, eccetera, eccetera. Nello stesso tempo se gli stipendi delle persone che si devono formare non sono sufficienti a coprire i costi di questa formazione e non dimentichiamoci che in Italia i medici, giusto per spezzare una lancia anche a loro favore, hanno tra gli stipendi più bassi d'Europa in ambito, a parità di ruolo, in particolare in medicina generale, ma non solo, anche in medicina ospedaliera, per cui si è trovata questa soluzione per cui, per esempio, le aziende del farmaco possono pagare determinati corsi di formazione purché, per esempio, non siano monosponsor, cioè devono avere più di uno sponsor e purché non influiscano sui contenuti dello stesso. Ora, è ovvio che questo fa un po' ridere, ve lo dico, da persona che ci ha partecipato, che a volte ha anche contribuito a costruire alcuni contenuti per alcuni di questi corsi. Non è esattamente così facile, come dire, dimenticare, cioè evitare l'influenza nei contenuti. E poi c'è anche un altro punto essenziale, che chiunque ti regali qualcosa ti mette, e poi abbiamo montagne di studi di psicologia sociale, in una condizione per cui tu istintivamente ti senti di dovergli riconoscenza. È una cosa che può sembrare banale, ma non lo è, per cui tu sei propenso a vedere con occhio positivo chi ti ha regalato qualcosa. Quindi, le modalità di limitare queste cose sono, negli altri paesi, di limitare le sponsorizzazioni, però per limitare le sponsorizzazioni in altri paesi è lo Stato che paga, per esempio, la formazione. Quindi qui c'è da decidere chi mette mano al portafogli. Noi giornalisti lo sappiamo bene, perché noi abbiamo una formazione mediamente piuttosto di bassa qualità, lo sappiamo, perché i nostri ordini hanno chiesto che fosse totalmente gratuita, e quindi è ovvio, e anche senza sponsorizzazioni, come sapete. Quindi è ovvio che una formazione senza soldi, a volte è ottima, ma il più delle volte non lo è. Allora, o mettiamo mano al portafoglio noi personalmente, e lo facciamo in pochi, e non abbiamo ancora capito che questo è un investimento, oppure ci prendiamo quel che passa al convento. Quindi il problema è decidere chi paga, sostanzialmente. Sapendo che ogni volta che si permette a qualcuno che potrebbe metterti in conflitto di interessi di pagare, poi però bisogna gestirne le conseguenze. Io una cosa che dico... Aspetta che ciò... Aspetta che ciò... Ok. No, una cosa che dico sempre a modi di scherzo, no? Cioè, quando mi presento, quando c'era l'epoca dei blogger, che io li vivevo malissimo, la cosa che dicevo, io sono un giornalista del sole 24 ore, scusate, quindi mi paga lo stipendio Confindustria, però c'è una cosa buona, che Confindustria è l'unione di tutti gli imprenditori. Per cui, insomma, mi pagano tutti gli imprenditori, non mi paga uno in particolare, che è un modo di dire che è un po' para, no? Che però è una cosa che penso realmente, insomma, io non ho un grande, no? Nei conflitti di interessi presunti tali, perché poi sai, il successo c'è anche sui giornalisti, no? Quelli che stanno nelle grandi case editrici, no? Questo parla così perché è guidato dalla Fiat, piuttosto che dai grandi, insomma, investitori, a parte il Corriere che ha un editore puro, noi sappiamo che la storia del giornalismo italiano erano, si diceva, voci in rosso di bilanci in nero, cioè i grandi giornali erano espressioni di grandi azionisti finanziari molto ritti che si potevano permettere anche di avere un editore o di finanziare un editore. Poi di fatto la situazione è un pochino cambiata, anche se l'unico editore puro in Italia è il Corriere della Sera, questo va detto, cioè Cairo di mestiere fa l'editore, no? Il Confindustria è un'associazione di imprenditori e poi Repubblica ha la Fiat, no? Se non sbaglio. Per cui, insomma, questo per indicare almeno due. Beh, su questo però io direi qualcosa, sui conflitti di interesse in sanità e il ruolo che abbiamo di giornalisti merita di essere sviscerato anche un pochino più nel dettaglio. Io da molti anni dico e trovo questa cosa abbastanza inaccettabile che la maggior parte delle, proprio tu parlavi dei congressi medici, io per lavoro mi è capitato di andare a grandi congressi medici, parlo non di quelli nazionali, parlo di quelli internazionali tipo Lasco a Chicago, che è il più grande congresso di oncologia al mondo, eccetera. Andavo perché ero direttore scientifico di una testata pagata da una fondazione, quindi mi pagava il viaggio una fondazione. Bene, dei giornalisti italiani presenti, molti dei quali i miei colleghi dignitosissimi che io conosco, praticamente nove su dieci erano a quei congressi per conto della loro testata, che non sborsava un euro per il loro viaggio, perché il loro viaggio era pagato da un'associazione medica, quindi un'associazione scientifica che raggruppava medici di un determinato settore della sanità, che a sua volta riceveva i soldi per spesare i giornalisti dalle case farmaceutiche. Quindi il giornalista di per sé non era in conflitto di interessi, ma il meccanismo è questo. Io sono un'azienda, voglio che si parli di un determinato farmaco nuovo su un giornale, allora contatto una società scientifica fatta di medici che ha contatti privilegiati con le testate giornalistiche, faccio venire i giornalisti che ovviamente scrivono i loro articoli come vogliono, ma in questo venire c'è un accordo per esempio per lasciare virgolettati spazi, interviste ai cosiddetti key opinion leaders dell'azienda, cioè ai medici e scienziati che lavorano per quell'azienda. Quindi il problema è che finché noi giornalisti accettiamo questo meccanismo, è ovvio che la visibilità che noi diamo a determinati meccanismi di conflitto di interesse presente nel mondo sanitario, li rinforza in un modo incredibile, quindi noi paradossalmente siamo l'ultima ruota del carro, nel senso proprio l'ultima, ma una ruota essenziale di questo meccanismo di visibilità che le aziende hanno bisogno per esempio per spingere nuovi prodotti, magari molto cari, che il sistema sanitario fa fatica a sostenere e a comprare per tutti quelli che ne hanno diritto, quindi è importante per loro fare una campagna che dica beh questo farmaco funziona perché così i pazienti che se ne potrebbero giovare cominceranno giustamente dal loro punto di vista a protestare che lo vogliono e si ingrana un meccanismo che in un certo senso spinge il sistema sanitario ad adottare quel farmaco e a volte anche a rendere più complicata la trattativa che il sistema sanitario fa per tenere bassi i prezzi dei farmaci con le aziende perché c'è una forte spinta esterna a dire io quel farmaco lo voglio perché è essenziale. Il ruolo del sistema sanitario in questo meccanismo è un ruolo che ci protegge sul piano economico oltre che sul piano della salute, della sorveglianza perché pochi lo sanno ma nei paesi dove la sanità è privata come gli Stati Uniti i farmaci costano molto di più perché non c'è nessuno a fare la contrattazione con le aziende. Noi che abbiamo un sistema sanitario invece riusciamo a ottenere dei prezzi convenienti perché il nostro sistema sanitario sceglie dove mettere i soldi, dove pagare e con chi contrattare. Infatti questa è una grande cosa, ecco, una grande, almeno noi che siamo tutti europei, sinceri europeisti, siamo molto felici di avere questo sistema e non averne un altro, o quantomeno di avere un intermediario forte. Assolutamente. Ti ringrazio moltissimo di aver centrato proprio il tema della comunicazione e del giornalismo perché prima di passare poi alla politica, alla parte più legata anche all'attualità, volevo farti una domanda diretta molto flash, cioè secondo te un giornalista anche scientifico, cioè chi per lavoro, al di là che adesso con il Covid tutti ci occupiamo di sanità, ma intendo dire in generale chi si occupa di sanità, può lavorare per un'azienda farmaceutica, avere avuto consulenze? Cioè secondo te può, o è addirittura oltre questo l'esplicitazione dei conflitti di interesse? Cioè come gestire le tante proposte? A me è capitato molte volte, come citavi anche tu, non ho mai, insomma, avuto modo di accettare per una serie di motivi, insomma, per esempio legati a, cioè la mia riflessione è che se io mi occupo di sanità mi trovo in enorme difficoltà ad accettare un invito, anche se, come dicevi tu, a dei viaggi, eccetera, l'unica volta che sono andata a un congresso internazionale di oncologia, era un congresso europeo, due o tre anni fa, c'era, il congresso aveva, diciamo, messo in piedi delle borse di studio, chiamate, sì, insomma, fellowship, insomma, dove invitava dei giornalisti, tu venivi selezionato, in Europa c'erano tipo 5-6 posti e poi potevi andare, anche lì non era molto chiaro poi di fatto chi, cioè, io magari ingenuamente ero andata o comunque senza formi neanche tante domande, era un po' di anni fa all'inizio del percorso, era stato, nessuno mi aveva mai chiesto, appunto, nessuno ti aveva chiesto niente in cambio, zero, zero, esatto, no, altrimenti sarebbe stato molto evidente, è stata una cosa molto tranquilla, cioè, c'era addirittura un momento per i giornalisti, cioè a fine giornata tu andavi sentiti i tuoi talk, c'era ovviamente come qualsiasi grande congresso, c'erano le aziende farmaceutiche con il loro stand, via dicendo, era come una fiera e poi però a tua fine giornata avevi un piccolo momento di briefing con altri giornalisti scientifici a livello internazionale e ci si confrontava e poi tu scrivevi quello che volevi, poi però mi sono sempre chiesta anche lì che meccanismi ci siano dietro, insomma, comunque sono contenta che hai citato questa cosa, però la domanda è quella che ti facevo prima, cioè, in generale un giornalista scientifico può lavorare per un'azienda farmaceutica, anche solo momentaneamente, cioè come consulenza o come o anche collaborazione nel senso scrivere degli articoli sui loro siti, content curation e via dicendo. Allora, è difficile risponderti, allora io devo dirti che l'ho fatto in un modo, quindi proprio in piena trasparenza, l'ho fatto, non ho mai accettato di farlo in modo diretto, ma questa forse diciamo che è una mia foglia di fico, per esempio, vi faccio degli esempi molto concreti, ho lavorato per fondazioni farmaceutiche, moltissimi anni fa avevo fatto un sito per una specie di enciclopedia medica che era pagata dalla fondazione Pfizer, che adesso non esiste più, che però era una fondazione indipendente, quindi era una fondazione a sé che aveva un suo direttore, che aveva un obiettivo non profit, però faceva parte sicuramente della corporate social responsibility dell'azienda. Avevo visto un po' il progetto e avevo accettato. Ho fatto dei lavori proprio attraverso il Sole 24 Ore, ho lavorato per tanti anni per Sole 24 Ore Sanità e ho fatto diversi quaderni del Sole 24 Ore Sanità che erano delle monografie che avevano palesemente uno sponsor farmaceutico, cioè io magari scrivevo articoli in totale autonomia, mi dicevano guarda mi serve un articolo sullo stato dei reparti di reumatologia in Italia, eccetera, eccetera, però non era un segreto per nessuno, i quaderni uscivano con uno sponsor... Powered by con il marchio del... Assolutamente, col marchio in modo esplicito. Perché l'ho fatto? L'ha fatto la mia società, non l'ho fatto io personalmente, ma l'ha fatta la mia società, perché questo è il mercato del giornalismo medico-scientifico in Italia. Adesso, per esempio, a me dispiace che questa cosa non possa essere gestita in modo... Ultimamente non lo faccio più, perché secondo me il mercato è più inquinato, io parlo degli anni 90, ancora riuscivo a gestire. Questa cosa era molto trasparente in certe cose, adesso secondo me è più subdola e quindi ho deciso che non lo faccio più. Però vi dico, la mia agenzia è il maggiore fornitore italiano di Medscape, che è il sito di notizie mediche più importante al mondo oramai, che chiaramente vive di inserzioni pubblicitarie di case farmaceutiche, perché scrive solo per i medici. No, io volevo fare, se posso, una domanda. Volevo provare a mettere un pochino a terra, perché insomma noi stiamo facendo un discorso molto alto, io scusatevi, vi trascino un pochino più in basso, ma insomma è il ruolo mio. Allora, noi abbiamo imparato prima a capire cosa sono i conflitti di interesse dalla politica, tendenzialmente se un politico ha un conflitto di interesse da cittadino mi domando se quando vota, voti facendo gli interessi della collettività o anche suoi, posso che questi due interessi non coincidano. Non sempre è stato un argomento convincente, l'abbiamo visto, insomma, nella storia recente. Però questi conflitti di interesse nella scienza, mentre nella politica bisogna andarli a cercare, a scovarli, fanno i colleghi che si occupano di fare il giornalismo d'inchiesta. Nella comunità scientifica vengono esplicitati se capita di leggere un paper scientifico, probabilmente è capitato a qualcuno che non lo fa normalmente nell'ultimo anno, ma anche solo di dargli un'occhiata, in fondo c'è sempre la clausola che è esplicita se ci sono dei conflitti di interesse. Ora, Luca mi ha insegnato che bisogna essere civici e pensare sempre male. Grandi lezioni di vita, eh? Non ho visto mai. Se questi conflitti di interesse non vengono esplicitati. Prima citavi il caso di quel oncologo americano che ha perso il posto di lavoro, poi vabbè, perché ne ha trovato uno pagato pure meglio. Però ci sono delle ricadute sulla collettività, al di là del prezzo di farmaci, cioè è pericoloso anche per la salute pubblica il fatto che siano conflitti di interesse che non vengono dichiarati? È difficile dirlo, perché sapere qual è l'impatto di qualcosa che non sai è ovviamente complicato. Diciamo che i conflitti di interesse, come ho detto, sono ubiquitari, dobbiamo chiederci quando si manifestano in modo, come dire, volontario e quindi fraudolento, oppure quando la mancanza la mancata disclosure, cioè la mancata trasparenza, è un errore casuale. Abbiamo dei casi di cronaca come quello che ti raccontavo, che ci dicono che spesso chi nasconde il conflitto di interessi è perché c'ha bisogno di nascondere, quindi lo fa in modo consapevole. Quindi certamente è difficile, però, per esempio, io mi ero tirata giù qualche dato, appunto proprio quel numero di Giamma, aveva fatto un'indagine proprio tra gli oncologi, aveva visto che il 32% degli oncologi nei propri studi scientifici sui farmaci non aveva esplicitato in modo corretto i conflitti di interesse. Un altro studio analogo sui dermatologi arrivava al 55%. Ora, noi non pensiamo che 3 oncologi su 10 siano cattive persone e la metà dei dermatologi. Quindi è ovvio che la non trasparenza non porta di per sé a un comportamento passabile per legge, diciamo così, condannabile per legge. Certamente merita che ci sia qualcuno che da fuori si occupa di fare le pulci a queste persone. Io sono contenta come giornalista se qualcuno viene e mi chiede conto di quello che ho scritto quando ho scritto sotto conflitto di interessi, come dicevo a voi, che qualcuno rilegga i miei pezzi e dica, eh, ma tu lo sapevi che lavoravi per quell'azienda lì, guarda cosa hai scritto, in modo che io possa dire, no, ho scritto per questa e questa ragione. E noi giornalisti dobbiamo fare questo nei confronti del mondo della sanità, è il nostro ruolo, e fare i cani da guardia nei confronti della sanità, come lo facciamo nei confronti della politica, delle pubbliche istituzioni, eccetera, eccetera. Se un giornalismo esiste, esiste per sorvegliare i processi democratici, scusate se è volo di nuovo molto alta, però poi tradotto in parole semplici, significa andare a vedere se qualcuno ha preso delle decisioni sotto l'influsso di uno specifico interesse personale. C'era un commento che cadeva a fagiolo. C'è una letteratura scientifica che mostra che i trial clinici sponsorizzati dalle aziende ottengono sistematicamente risultati più favorevoli al farmaco rispetto agli studi indipendenti. Questo dice che non è solo questione di onestà individuale, ma è una distorsione che richiederebbe interventi, in primo luogo finanziando molta più ricerca indipendente. Questo mi sembra corretto. Posso dire una cosa, perché poi il problema di quattro giornalisti, in video, è che ci facciamo poi il mea culpa vicenda. Poi il problema sono quelli che stanno più in alto. Per esempio, io ho stato pagato da aziende insieme ad altri giornalisti per andare a eventi tecnologici, ma un numero importante di volte. Allora, lì l'azienda ci pagava tutto, nel senso che ci pagava l'aereo per andare alla conferenza stampa. Allora, lì la mia preoccupazione da quando ero giovane ad adesso era il mio collega di Repubblica. Cioè, io si scriveva un pezzo e il mio punto non era tanto quello di essere accondiscendente con l'azienda, perché l'azienda mi avrebbe invitato a prescindere, perché poi nel campo delle tecnologie l'azienda ha interesse a portare i giornalisti a vedere quello che hanno da dire, perché parlano di quello che hanno da dire. Possono parlare bene. A loro poi non mi è mai capitato una volta che ci fosse un tema gigantesco sul merito. Avevano bisogno di fare marketing, per cui di avere tanti articoli su quell'argomento. Il mio problema è sempre stato quello di scrivere una cosa sensata rispetto al mio competitor e soprattutto di essere credibile, come dicevi tu, Daniela. Perché se io scrivo benissimo ogni volta dell'azienda che mi porta in un posto, io poi ho come unico lettore l'azienda che mi porta nel posto, perché fondamentalmente noi, ed è questo il punto, rispetto a un medico abbiamo il nostro output, il nostro prodotto, è trasparente by default, cioè lo leggono. Per cui il mio lavoro è qualcosa che io scrivo, o che io racconto, o che io dico, e quello può essere giudicato. Cioè è chiaro che se sono molto accondiscendente, parliamo di giornalismo economico, e poi di fatto il giornalismo scientifico, soprattutto quando parla di medicina, si appoggia ad aziende che fanno profitto e quindi che hanno soldi, per cui è una forma di giornalismo economico quando non è divulgazione pura o non è il racconto della scoperta. Beh, allora questo c'è anche, dico da voi, anche se poi i confini non sono così ferrei. Per cui insomma lì, secondo me, un giornalista risponde di quello che scrive, secondo me. È corretto il problema, però è quanta capacità abbiamo noi giornalisti, quando scriviamo, di, come dire, di sapere analizzare le informazioni che ci vengono date. E questo è il primo punto, per cui è importante che le persone che scrivono di argomenti molto tecnici abbiano un memo di competenza tecnica per poter capire nella comunicazione che ti arriva cosa deve essere verificato. L'altro punto è che io mi sono sempre chiesta, questa cosa del giornalismo tecnologico l'ho ben presente, Il punto è che noi, quando scriviamo di farmaci, abbiamo un doppio impatto. Per esempio ci sono un sacco di studi che dimostrano che quello che viene pubblicato in ambito di salute e di scienza in generale sui giornali comuni, impatta sulla scelta che gli scienziati fanno, per esempio, di argomenti o articoli che citano nei propri studi. Questo significa che anche il medico comune o lo scienziato comune la mattina quando fa colazione, legge il giornale, vede qualcosa che riguarda il proprio ambito di interessi, ne rimane colpito e non solo ne rimane colpito, come dire, ne viene banalmente a conoscenza. Noi dobbiamo pensare che ogni anno si pubblicano svariati milioni di articoli scientifici. Quindi la selezione, far emergere tra questi svariati milioni alcuni temi, alcuni prodotti, a volte quando parliamo di farmaci, ma anche alcuni filoni di ricerca, piuttosto che altri, è importante anche per la scienza, perché lo scienziato viene a scoprire quella cosa lì, perché tu giornalista l'hai raccontata. E questo nostro ruolo, che gli scienziati non amano molto ammettere, perché è come dire che loro non sanno muoversi, ma non è che non sanno muoversi, è che proprio c'è troppo. C'è la famosa infodemia di cui noi parliamo sull'informazione, c'è anche nell'ambito sanitario all'ennesima potenza. Quindi quello che noi estraiamo dal cappello, gli diamo una visibilità sostanziale. E il problema è anche che se tu fai pubblicità a un nuovo prodotto tecnologico, che è una questione di marketing, come dicevi, quindi la gente lo compra, è una schifezza, nessuno legge più Luca Tremolada, che mi ha tirato quella sola per cui ho comprato quel prodotto tecnologico. Nell'ambito sanitario, e in particolare nell'ambito farmaceutico, è un po' più difficile fare questa relazione. Ciao, ciao. Scusa, volevi dire qualcosa, Luca? Mi sa che c'hai l'eleco. C'ho io? No, ok. No, volevo provare a passare dai giornalisti a Burioni, no? Cioè, fare una cosa... Luca non la tocca proprio piano, eh? Non nelle cose, cioè, questi passaggi... Comunque, vai. Vado? Posso? Cioè, che è brutto dare del giornalista a qualcuno, questo è il tema? No, buono, no, nel senso che... Cioè, adesso abbiamo a livello base. No, la cosa che a me è interessata è che, per esempio, Burioni, che è un divulgatore centrale, no? In questa pandemia, è centrale tuttora, è invitato tutti i giorni, anzi tutti i sabati, in un importantissimo contenitore della RAI, muove interessi e scalda gli animi non solo del popolo di Twitter. Insomma, è una personalità riconosciuta che racconta e racconta questa pandemia. La critica più odiosa che io gli sento fare via Twitter è ma tu non parli male delle case farmaceutiche perché tu sei un medico, perché tu quantomeno sei pagato da... Ecco, io volevo capire, cioè, questo è un film che non sarà possibile mai, diciamo, rendere trasparente, perché nel momento in cui tu hai degli alfieri, cioè degli alfieri, io li chiamo gli alfieri, però dei personaggi che, insomma, tutte le figurine che abbiamo visto di epidemiologi che si sono alternati in televisione, una parte dei negazionismo, del mondo del... che vede, insomma, l'afanità, il mondo della scienza come nemico, come colluso, come in qualche modo mosso da interessi nazionali alti, da Bill Gates ai grandi burattinari Soros, ecco, cioè, non si riesce a togliere dalle frecce di questo arco sbagliato chiaramente, il sospetto che anche il professorone, che è sempre in televisione, in qualche modo parla o quantomeno non attacca a una casa farmaceutica, soprattutto in un momento straimportante in cui una casa farmaceutica è attaccata da una nazione, anzi, da un continente, dall'Europa, pensiamo al casa di AstraZeneca, no? Cioè, in un momento storicamente senza precedenti, dove abbiamo dei premier che puntano il dito contro una casa farmaceutica, abbiamo dall'altro i medici che si trovano in un momento in cui da una parte si sentono tirati dal pubblico che vuole divulgazione scientifica, dall'altro si sentono accusati perché hanno dei rapporti con le case farmaceutiche. chi sta fuori da tutto questo baraccone mediatico, non solo non ci capisce nulla, però non è esente dal sospetto. Ho fatto una domanda lunga, ma secondo me... Mi è chiarissimo. Vediamo Cristina cosa dice, l'ho fatta bene o è andata... Perché di solito mi cazza. No, dice che lo bullizzo, quindi no. No, esatto, no, perché... No, esatto, esatto, c'è questa cosa qui del taglia perché diventa troppo lunga. Però io cambierei argomento. Eh? Io cambierei argomento. Esatto, va bene Luca, hai detto la tua cosa, grazie però, adesso puoi... No, ma ti rispondo su Burioni se vuoi. Allora, Burioni è un medico, spero che prescriva dei farmaci, perché altrimenti spero che non prescriva erbette o alternativi. Non mi piace il suo modo di comunicare, ma... Conoscendolo non credo che prescriva erbette. Era uno stimolo, spero che... Quindi, di conseguenza, è facile, e quella è il lato, come dire, è facile accusare tutti i medici di essere collusi. Ed è ovviamente, la questione Big Pharma è una questione complicata da gestire, perché la verità è che le case farmaceutiche non sono degli stinchi di santo. Sono tra le aziende con margini di profitto più alti in proporzione a quello che investono, e sono sicuramente... Non sono nate per fare opere di bene, però ragazzi, se nell'ultimo due secoli, un secondo e mezzo, diciamo, l'aspettativa di vita è aumentata come è aumentata, lo dobbiamo essenzialmente perché esistono i farmaci. Io sono viva, perché ho una malattia cronica autoimmune, sono viva perché qualcuno ha inventato gli immunosoppressori. E certo, ci sono stati degli scienziati che hanno studiato il sistema immunitario, ma c'è stata un'azienda che ha sviluppato il farmaco che prendo tutte le mattine, senza il quale non sarei qui a chiacchierare con voi. E questo vale per tutti noi. Quindi è ovvio che è difficile gestire questo tipo di accusa nei confronti di Big Pharma perché si tende un po' a dimenticare il lato anche di innovazione che c'è nella ricerca farmaceutica, il lato di innovazione e anche il profilo economico in senso positivo, perché ahimè, devo dire, che le case farmaceutiche non fanno niente per rendersi simpatiche. non sono neanche capaci, diciamoci chiaramente, di comunicare come si deve quando sono nel mezzo di un casino, scusate il termine, come quello che è successo ad AstraZeneca e non fanno veramente nulla per mitigare questa cattiva fama che hanno. A volte mi chiedo, e lo dico proprio in modo palese, mi chiedo se sono, come dire, così cieche oppure se semplicemente non gli importa. Se fosse un'azienda di tutt'altro genere, vi assicuro che avrebbe una risk management che gestisce una cattiva comunicazione di questo tipo. Quindi il problema in questo campo è che noi non sappiamo come da un lato smantellare questo tipo di accuse che fanno sì che i medici siano sempre visti come venduti o la sanità sempre come venduta e nello stesso tempo dire che il problema esiste, perché esiste, e che dobbiamo tenerlo in considerazione. È un po' la quadratura del cerchio e purtroppo devo dire che l'unica cosa che ci può aiutare è poter contare su delle istituzioni pubbliche di sorveglianza di questo settore dell'economia nelle quali potersi riconoscere e anche di cui potersi fidare. Questo è un punto critico, secondo me. Nei paesi dove c'è meno questo complottismo su Big Pharma è perché c'è maggiore fiducia nella capacità di controllo dello Stato. Noi purtroppo, noi italiani in particolare, abbiamo poca fiducia nella capacità di controllo dello Stato. A volte anche con qualche margine di ragione, però è un problema questo. Riccardo? Io volevo cambiare un attimo argomento. Come pronunciato, ma sempre un ritorno. C'è l'eco, c'è l'eco. Sì, ma credo che sia un eco che... Ok, non solo più, fantastico. Ok, ottimo. No, volevo cambiare, come dicevo, un attimo argomento. Io credo che nell'ultimo anno la collettività abbia acquisito consapevolezza del fatto che la scienza non ha a che fare con la verità. Che, come dire, si muove tra un mare in tempesta pieno di dubbi. Mi è capitato, ricordo, di aver sentito in qualche occasione il professor Alberto Mantovani a domande che gli venivano post sulla pandemia. Tante volte non lo sappiamo, non lo so. Quindi esprimere dei dubbi. Quindi l'ultimo anno ha portato a cambiare un po' la percezione di quella che è la scienza nel senso comune. Diciamo così. E adesso, sentendo anche quello che diceva Daniela, scopriamo che quella definizione che celebre che Rino Formica diede della politica probabilmente in qualche caso può adattarsi anche alla scienza in generale. Non l'abbiamo vista insomma con la medicina. Volevo chiedere così a Daniela cosa ne pensa. del fatto che la scienza è come dire non è statica non è una... No, sì più su questo sul fatto che anche la scienza possa essere sangue merda così diciamo di cosa parlava Formica. Eh, certo guarda paradossalmente ho appena scritto con Fabio Turon un libro che esce il 28 aprile per codice che si intitola scienza senza maiuscola in cui abbiamo... Questo non lo sapevo quindi diciamo che il confetto di interesse non esiste mamma mia però vedi che fa le domande più sintetiche però saporiti però fa degli assist mamma mia neanche a fare la posta eh, no tra l'altro l'ho detto ma in realtà l'editore forse non voleva ancora che lo dicessi però l'ho detto più che altro perché no, Daniela l'hanno pubblicizzato l'evento di oggi quindi ah ok mi sento meno responsabile potremmo anche rompere un embargo noi eh cioè è già su tutti i siti si può preacquistare ho visto quindi direi che puoi siamo anche lì che se l'impressione in realtà in realtà quando ho scritto questo libro quando abbiamo scritto questo libro io e Fabio Turone abbiamo ci siamo detti che stavamo questo sì era un assist verso chi ci vuole mozzare le gambe perché abbiamo raccolto tutte le storie in cui la scienza è sangue e merda appunto in cui in cui ci sono partendo dai 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 temi dell'etica della ricerca però abbiamo raccolto un po' di storie in cui raccontiamo la scienza come opera di esseri umani quindi il conflitto di interesse sicuramente ma anche gli aspetti metodologici la scienza razzista la scienza sessista la scienza ideologica eccetera eccetera perché la scienza è fatta da esseri umani questo la scienza come prassi se parliamo di metodo scientifico di strumenti di analisi della realtà eccetera eccetera sicuramente parliamo di qualcosa come dire di valore ma poi lo strumento deve essere messo nelle mani di esseri umani e nello scrivere questo libro io ero così preoccupata di questa cosa in un momento storico come questo che credo di avere fatto diecimila volte nel libro un'escusazione non petita cioè non volevo parlare male della scienza parlo male della scienza in questo libro perché la amo moltissimo e sono convinta che sia uno strumento utilissimo per orientarsi nelle policy nelle scelte di vita di tutti i giorni tant'è che alla fine del libro ho scritto tutto una lunga parte moralista sul concetto di cittadinanza scientifica cioè sul fatto che tutti noi cittadini dovremmo acquisire delle competenze per essere capaci di prendere il buono della scienza ma non venerare la scienza come una religione anche venerare la scienza come una religione è una forma di ideologia che può portarti a un conflitto di interessi e noi l'abbiamo visto il conflitto di interessi può anche essere valoriale quando tu sei troppo convinto di una cosa troppo dentro una visione univoca di un problema tu applichi le tue convinzioni selezioni le prove a sostegno delle tue opinioni tant'è che io nel libro ho chiuso il libro con una citazione di Shila Jasanoff che è una filosofa della scienza è un'esperta di valutazione di impatto proprio delle tecnologie che lei dice che bisogna evitare la visione a tunnel tipica degli esperti lei è una che studia l'impatto delle tecnologie nella società dice quando noi facciamo vedere le cose all'esperto l'esperto ha una visione a tunnel perché è dentro un contesto mentale anche questa è una forma di come dire di un fenomeno se tu pensi parlavi di filosofia della scienza se tu pensi a quello che diceva alla critica che l'Hakatos muoveva a Popper facendo l'esempio dello scienziato newtoniano quello che di fronte al controesempio che una visione popperiana doveva falsificare la teoria invece l'Hakatos dice lo scienziato newtoniano costruisce una serie di ipotesi ad hoc per difendere la sua la sua teoria quindi è anche umano questo il fatto che la gente sia fatta da esseri umani porta anche a questo assolutamente assolutamente ma questo è esattamente quello che noi dobbiamo capire come cittadini ma anche come politici perché quando la scienza diventa policy cioè si deve trasformare in una decisione politica non è una non è un'applicazione diretta è un un utilizzo di quella informazione che mi viene dalla scienza che io politico devo calare in una realtà in cui devo considerare degli elementi che magari non sono scientifici per cui questo è il problema che noi abbiamo nella traduzione ad esempio i bilanci dei ristoratori e dei baristi per mettere sempre a terra quello che siamo dicendo assolutamente ma ad esempio anche se devo o no sospendere un vaccino sulla base di una segnalazione perché si si poteva essere pro o contro io personalmente non avrei sospeso ma è un'opinione è un'opinione il politico deve prendere la mia opinione l'opinione dello scienziato l'opinione dell'AIFA e poi dirsi cosa succede nella mia società nel mio paese se io non blocco questa cosa e muore qualcuno che tipo di danno faccio oppure che tipo di danno faccio se blocco nella mia visione fai più danno se blocchi che se non blocchi perché hai aumentato il rifiuto verso un vaccino che io pensavo essere relativamente sicuro anche in mezzo a tutto quello che stava succedendo ma è una scelta politica la cui responsabilità è del politico e quando noi andremo alle urne decideremo se quel politico ha saputo tradurre la scienza in qualcosa di fatto bene o fatto male ma non se è stato capace di essere scienziato perché non è il suo mestiere questa è questa è una ricerca della politica adesso lo dico con l'eco perfetta perché ed è anche una delle cose che mi fa più imbestialire quando sto sui social cioè il fatto che è stata scambiata la scienza per competenza e questa è una cosa che è imperdonabile anche figlia dei tempi nel senso che si sta dicendo con forza adesso è il governo dei migliori e gli scienziati in quanto competenti possono decidere il meglio per la collettività ecco questa è una cosa che mi ha fatto male fin dall'inizio lo dico mi ha fatto male adesso non la voglio mettere sul tragico però nel senso che mi ha fatto molto arrabbiare perché è come se si fosse perso di vista il ruolo del tecnico cioè il ruolo della scienza che come dicevi tu sono persone c'è un'opinione e c'è giustamente un tema che un medico deve salvare deve curare una patologia non deve curare un sistema cioè il famosa battuta adesso la estremizzo però il bambino è sano ma è morto no perché le medicine lo hanno così non è un tema è un tema che si deve estendere alla società lo sto dicendo male però per dire che se io faccio una domanda e noi abbiamo fatto un bel pezzo con Cristina sulle domande che si fanno agli scienziati e agli scienziati non gli si può chiedere il bene pubblico perché dei ristoranti a uno scienziato non frega nulla così come a Burioni non frega nulla il suo tema è quello di combattere una pandemia e lo deve fare con tutti gli strumenti che la scienza gli mette in mano in questo senso la sua è un'opinione ed è un'opinione tecnica che io poi dovrò contemperare a quelle che sono le esigenze del sistema i ristoratori e lo stato delle conoscenze che ci sono in tutto questo il giornalista scientifico la scienza si basa su evidenze scientifiche quando ci sono quando non ci sono deve avere l'umiltà di dire non c'è un'evidenza scientifica su questo tema e tutta la cronaca dell'ultimo anno si è giocata su questo misunderstanding c'è una evidenza scientifica per tenere le scuole aperte per capire quando deve fare il richiamo per sapere come diavolo si muove questo virus rispetto agli altri i tempi della scienza ci dicono anzi voi ci dite che insomma la scienza ha dei tempi che non sempre collimano con le decisioni tempestive che deve prendere un governante c'è anche da dire che la scienza è mobile come dicevamo prima per cui in risposta per esempio se le scuole sono sicure oppure no abbiamo avuto delle prove scientifiche altalenanti a seconda dell'evoluzione degli studi in corso e addirittura abbiamo anche un problema dei tempi della scienza lo studio di cui tutti discutono in questi giorni che dice che le scuole sono sicure la critica più sensata che ho sentito fare a questo studio è magari uno studio fantastico però è stato fatto in un periodo in cui non c'era la famosa variante inglese che ha una contagiosità più elevata quindi quei dati lì ci danno una fotografia sensata di una condizione che non è più quella che si verifica con i tempi della scienza perché intanto loro hanno dovuto scrivere lo studio pubblicarlo lo studio è uscito e il virus che abbiamo in giro non è più quello che hanno studiato quindi poi qualcuno magari mi viene a dire mi dice non è un problema per questa ragione scientifica però la critica principale è esattamente quella dei tempi della scienza rispetto ai tempi del reale in più noi consideriamo scienza chissà perché solo la matematica la fisica e qualcuno anche la medicina quando esistono anche le scienze sociali che sono scienze la sociologia l'economia l'economia non è una scienza sociale in senso stretto però ci aiuta a determinare fenomeni importanti per esempio in sanità negli ultimi anni si parla tantissimo del problema delle diseguaglianze come fattore di mortalità per esempio si dice una cosa banale però nascere e sembra la barzelletta nascere poveri e brutti si muore prima che a nascere ricchi belli e sani è una banalità ma non è una banalità che noi misuriamo per cui ogni volta che noi calcoliamo per esempio l'impatto in sanità di determinate cose sulla base di una visione di nuovo a tunnel dell'esperto che non guarda le altre scienze che ci dicono altre cose l'impatto psicologico l'impatto economico l'impatto sociale il bilancio rischio beneficio lo dobbiamo fare con i dati di tutte le discipline scientifiche non di quelle principali è vero che la virologia si occupa di virus ma i virus stanno nel mondo certo senti prima di concludere perché ormai sono le sette passate e non vogliamo rovinare cioè diciamo prenderti tutta la serata una cosa molto secca una domanda diretta Daniela nella abbiamo citato la farmacovigilanza in varie l'abbiamo citata in molte occasioni in questa serata come funziona diciamo il conflitto di interessi come viene gestito all'interno dei processi di farmacovigilanza questa è una domanda che immagino possa interessare molti che nelle ultime settimane si stanno stanno cercando di capire magari per la prima volta nella loro vita come funziona la farmacovigilanza perché è diventata materia di cronaca beh è una cosa complicata ma cerchiamo di fare rapidamente molto sinteticamente una sintesi in realtà fa parte esattamente di quegli strumenti istituzionali di sorveglianza di cui parlavo prima nel senso che noi sappiamo che gli studi sperimentali che si fanno sui farmaci non sono sufficienti a far emergere tutti i possibili effetti collaterali di tossicità eccetera questo per qualsiasi farmaco non solo per i vaccini covid ovviamente quindi abbiamo messo insieme dei sistemi di controllo che sono sia nazionali che europei nazionali se ne occupa l'AIFA che è un ente un ente pubblico e qui possiamo aprire il conflitto di questione sul conflitto di interessi di tipo politico cioè cosa vuol dire quando questo tipo di istituzione è retto gestito da figure che sono nominate dalla politica sulla base non di un concorso pubblico per titoli per capacità eccetera eccetera ma per cooptazione diretta e un po' di discussione su questo ci potrebbe essere a livello europeo abbiamo l'EMA che è chi si occupa di raccogliere tutte le segnalazioni di effetti avversi che vengono dai medici che vengono anche però da noi cittadini cioè noi cittadini possiamo andare sul sito dell'AIFA che poi le nostre segnalazioni entrano in un database generale che è quello europeo e dire guardate dopo il vaccino dopo che ho preso questo farmaco mi è venuto un bubone grosso così lo scriviamo c'è un in ogni regione d'Italia c'è un responsabile della farmacovigilanza che valuta le segnalazioni le classifica per gravità molto grave poco grave eccetera eccetera e le manda al database centrale quindi quello che i cittadini non sanno è che per esempio possono andare nel database centrale dell'EMA che esiste in tutte le lingue europee digitare il nome di un farmaco e scoprire quali effetti collaterali dà con quale frequenza chi li ha segnalati nelle segnalazioni degli effetti collaterali ci sono anche quelli segnalati dalle aziende stesse che hanno interesse fino a un certo punto ovviamente ma in generale hanno interesse a che gli effetti collaterali emergano perché se sono segnalati allora entrano per esempio nel foglietto illustrativo del farmaco e questo li mette anche al riparo di azioni legali perché vuol dire io ve l'ho detto che questa cosa può darvi il bubone la febbre e persino l'effetto collaterale raro se voi dopo aver letto quel foglietto illustrativo lì avete deciso di prendere comunque questo farmaco lo avete fatto sulla base del consenso informato quindi vi ho informato avete consentito non potete più farmi causa quindi paradossalmente in termini di conflitto di interessi a meno che non si parli di quegli effetti avversi che poi hanno portato al ritiro del farmaco dal mercato e abbiamo qualche caso storico ma il fatto che gli effetti siano segnalati è un bene per l'azienda sul piano legale quindi la farmacovigilanza è uno strumento di aiuto a contenere il conflitto di interessi ma anche a sorvegliarlo in un certo senso grazie direi che hai dato un quadro della situazione senti ultima cosa che vogliamo condividere facciamoci vedere questa cosa qui facciamogliela vedere dai devo far vedere questa non è lì ho visto c'è questo tweet che sta che sta girando dall'account sputnik v cioè il vaccino russo per semplificare esatto dice che tra l'altro anche la spunta blu quindi è verificato dice invita i tuoi amici a seguire sputnik su twitter mi sento molto zora tradurre i tweet in italiano i nostri follower sui social media saranno i primi a essere invitati in russia a essere vaccinati con sputnik quando partirà il programma quindi siamo al turismo vaccinale in qualche modo che vi devo dire che vi devo dire sputnik è qualcosa di più di un vaccino è una storia di influenza geopolitica mi sembra chiaro ormai nessuno lo nega detto ciò giusto per per essere chiara se la valuta se sputnik verrà valutato in modo positivo dalle nostre dall'EMA e dall'AIFA e passerà tutti i controlli e le fabbriche che fabbricano sputnik verranno validate dai nostri enti di controllo io personalmente mi faccio sputnik come mi faccio AstraZeneca come qualsiasi vaccino approvato anch'io anch'io il problema è che per ora questi hanno fatto una domanda ma danno i dati a spizziche bocconi insomma fammelina e come dire e quindi boh non lo so se verrà approvato se verrà approvato solo se l'Europa avrà tutti i dati di cui ha bisogno come per tutti gli altri vaccini questa roba qui è a rischio e pericolo di chi decide di salire su un aereo la Russia è un paese bellissimo se volete farvi un viaggio ma non era in nessun modo un invito a mettere like a seguire per andare a vaccinarsi lui sarà per dire appunto che è un aspetto commerciale diciamo no sangue e merda insomma torniamo sempre lì da qui guarda non credo neanche che siano appunto non sono neanche i soldi qua qua è proprio l'influenza politica dietro questo tipo di dietro Sputnik e dietro tutta la campagna c'è una ragione politica c'è il governo russo non c'è la casa farmaceutica che vuole fare i soldi anche perché la produzione è Gamaleia che è lo Stato russo Daniela se sei d'accordo ti vorremmo invitare a fare una puntata sulla diplomazia del vaccino cioè a ragionare veramente tra un po' quando sarà il caso come sono cambiati gli equilibri geopolitici con l'arma del vaccino perché come abbiamo scritto anche su Infodata stanno cambiando si parla di diplomazia del vaccino si parla di un mondo più diseguale ancora più diseguale di quanto potessimo aspettarci grazie a questi strumenti e devo dire che c'è poco interesse cioè a noi interessa moltissimo in questo quadratone dove dove abbiamo facciamo vedere i nostri volti però all'interno di questo quadratone faccio sempre molta fatica a parlare di Africa faccio sempre molta fatica a parlare di luoghi dove non si sa nulla o di COVAX no Cristina cioè i piani per vaccinare tutto il resto del mondo come se fossimo in un brutto film di fantascienza dove ci sono poi il cyberpunk è quello vero con il mondo dei ricchi che sta sopra le nuvole tutti vestiti con le tutine colorate e poi ci sono i soborghi dove combattono con le armi tecnologiche ecco l'impressione insomma è che si guardi o si strizzi l'occhio un po' a uno storytelling che non va bene credo a nessuno sia a quelli che stanno sopra che a quelli che stanno sotto ho fatto una breghierina finale sembrava una messa cantata esatto Daniela grazie davvero per questa chiacchierata e grazie anche a voi a chi ci sta ascoltando qui su Twitch e a chi ci ascolterà su Youtube e poi il video sarà anche disponibile su Infodata proprio sul sito di Infodata Sole24ore e sui canali del sole sul canale video del sole e ti aspettiamo allora considerati invitata per una prossima puntata ciao grazie ciao